Ciao Beppe, credo sia inevitabile partire dal caso del rigore, il Presidente da Fiorentina è stato molto duro, ha detto basta a questo tipo di arbitraggio, tra l'altro quel rigore che non c'è arriva in un momento topico della partita, ecco vorrei il tuo commento da lì e poi magari parliamo della partita un'estate. Guarda, allora io volevo dire questo, insomma che per chi non ha visto la partita commentare un risultato così sembra che la Fiorentina oggi sia venuta qui a non giocare e in realtà non è assolutamente così, perché la Fiorentina nonostante che per lei fosse la terza partita in una settimana, mentre la Juve ha fatto una settimana tipo lavorativa e questo la ritengo un'ingiustizia perché è giusto che le forze in campionato poi possano essere le stesse e noi abbiamo avuto un impegno infrasettimanale a Milano con l'Inter e sarebbe stato più ovvio, giusto, giocare tutte e due questa settimana alla Coppa Italia per equità. Però siamo venuti qui nonostante la terza partita e nonostante mancassero dei ragazzi ma non è un alibi importante, vedi Milenkovic, Casares, Ribery, Duncan appena arrivato, Castrovilli, questo lo dico perché colgo l'occasione per fare i complimenti ai ragazzi che hanno giocato perché hanno fatto veramente una grande partita sotto l'aspetto dell'attenzione, della concentrazione, dell'organizzazione di gioco, dell'atteggiamento, della mentalità perché dall'inizio fino a quasi in fondo siamo stati in partita, non abbiamo concesso nulla a grandi campioni, a una grande squadra che costruisce sempre tante occasioni da gol invece abbiamo il primo tiro in porta vero, è stato nel secondo tempo con la parata di Dragoschi per il resto a livello di organizzazione difensiva, il fuorigioco, le attenzioni particolari, i dettagli sono stati molto bravi e nello stesso tempo siamo stati sempre pronti ad attaccare la porta avversaria con buone situazioni, buone letture, a volte abbiamo forzato, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e la scelta finale ma su queste cose si andremo a lavorare e la dimostrazione dell'inserimento di Ghezzal voleva far capire che siamo venuti qui con intenzioni a giocarcela e per provare a portare a casa i tre punti e vincere. Ci dispiace che poi dentro la partita ci siano degli episodi che ovviamente magari altre volte non sono stati letti a nostro vantaggio se il Presidente aveva avuto questa dichiarazione perché altre volte nelle ultime partite, parlo solo nelle ultime tre partite che abbiamo affrontato ci sono stati degli episodi a nostro vantaggio non valutati così come oggi e quindi c'è un po' di rammarico perché ti trovi oggi a subirne due in questa maniera e sull'1-0 eravamo lì pronti, abbiamo avuto delle situazioni e occasioni per portarsi in parità e purtroppo sai poi le partite il 2-0 diventa pesante a livello psicologico poterci andare a continuare a lavorare sopra e quindi è un peccato perché la prestazione i ragazzi l'hanno fatta faccio i complimenti, mi dispiace per i tifosi, per la società però i ragazzi oggi sul piano del gioco, dell'intensità, dell'applicazione non meritavano questo risultato assolutamente. Ecco, voglio tornare sullo sviluppo della manovra che mi sembra buono e la facilità con cui la Fiorentina è arrivata anche sotto porta nonostante una difesa molto forte per la Juventus. Nel primo tempo, prima del vantaggio della Juventus la Fiorentina ha avuto tra il 22 e il 23 un paio d'occasioni vere, ecco è lì che devi lavorare di più cioè è lì che bisogna buttarla dentro. Sì, però abbiamo anche sicuramente, a volte arriviamo lì l'ultimo passaggio, la lettura finale, Valetta meglio però abbiamo, c'è da dire anche tanti giovani, noi davanti abbiamo Cutrone, Chiesa, Vlaovic, Sottil, Ghezzal, Agudero abbiamo dei ragazzi che hanno 20 anni, 21 anni e quindi ci può stare che magari queste situazioni magari dobbiamo lavorarci sopra per migliorarle però che ci possa volere ovviamente più lavoro, più tempo perché anche in uscita, a volte sulla prima uscita sbagliamo nelle gare, perdiamo qualche pallone in più però sono situazioni sulle quali lavoreremo, stiamo continuando a lavorare e quindi il passaggio di crescita passa anche attraverso questo miglioramento però sul piano della manovra, del gioco abbiamo fatto le cose che dovevamo fare con organizzazione, con atteggiamento giusto siamo stati propositivi, ripeto qualche passaggio sbagliato in attacco di porta avversaria, qualche lettura però che posso dire, oggi un risultato tremendamente bugiardo e falso per quella che è stata la partita Beppe, buonasera, complimenti nonostante il risultato falsato ho dato sette e mezzo a Igor, sembra uno che giochi con noi da una vita eppure credo ci abbia due allenamenti sul gruppone da quando è arrivato Duncan quando lo metti per poter ipotizzare di vedere un assetto difensivo a centrocampo diverso un po' più possente tra le linee, grazie Igor è arrivato da due giorni ma quando l'abbiamo scelto avevamo intravisto lui, è molto giovane, ha 22 anni però un ragazzo che ha delle potenzialità importanti, giuste, può fare da terzo, da quinto e quindi ci abbiamo lavorato in questi due giorni, al video, sul campo, ha preso subito i movimenti ha fatto un'ottima partita anche sul piano della personalità e quindi è quello che ci aspettavamo e sono contento che sia venuto qui e abbia fatto questo tipo di partita lui come i suoi compagni anche per quanto riguarda Duncan è arrivato con un infortunio quindi questa è una risposta che dovrà darti lo staff medico e quindi dovranno essere loro a dirci fra quante settimane potrà rientrare e essere a disposizione con noi Salve mister, Jacopo Azzolini, Calcio News 24 Castrovilli è il centrocampista del campionato che vince più dribbling ecco in gare di questo tipo in cui sei costretto a stare tanto tempo, basso e senza palla quanto è difficile risalire senza uno con le sue caratteristiche? eh vabbè, ognuno ha le sue caratteristiche, è normale io penso che se togli Juventus, Bonucci, Chiellini, Cristiano Ronaldo, Liguain, Dibala in mezzo al campo Pjanic, se togli cinque giocatori di questo tipo magari ci sono delle alternative sicuramente valide però sicuramente qualcosa puoi perdere nella caratteristica individuale per questo oggi avevo inserito Ghezzal perché ha questa propensione offensiva di andarti ad allungare il campo, ad alzare con tecnica, con gamba con profondità e qualità e quindi per questa da qui la scelta di utilizzare un giocatore con queste caratteristiche è proprio perché potessimo andare a farlo nella maniera giusta e migliore però anche per lui era la prima volta e quindi è un ragazzo sul quale stiamo lavorando che ha ottime qualità e potenzialità quindi crescerà anche lui, è giovane e quindi ci aspettiamo tanto anche da lui Buon poveriggio, le chiedo velocemente se può dirci che cosa ha detto abbracciando Dibala prima del suo ingresso in campo, grazie Ma io non me ne ero neanche accorto, della verità ma è Paolo che è venuto lì ad abbracciarmi ma sai, noi c'è grande affetto perché con Paolo siamo stati insieme più di due anni abbiamo vissuto insieme due anni, una bellissima parentesi professionale insieme è cresciuto con me come calciatore a 19 anni, 18 anni ha fatto un bellissimo campionato, il primo e il secondo in Serie A ancora più bello tutti dicevano che doveva essere un trequartista, chi un esterno invece avevo visto subito lui che era un attaccante più vicino alla porta la metti e più è devastante e quindi in questo senso abbiamo fatto un grandissimo lavoro insieme un ragazzo speciale sul piano umano e sul piano tecnico la voglia sua di lavorare, di fermarsi, finito l'allenamento durante la settimana per migliorare, per crescere e veramente si è creato un grande rapporto di stima e affetto oltre all'aspetto del campo e queste sono cose che sono importanti anche per noi allenatori perché fanno capire quanto un giocatore poi riconosca anche nel lavoro dell'allenatore la sua crescita e questo resterà visto che l'ha ringraziata possiamo sapere cosa le ha detto lei ha di parla io? Cosa ho detto a Paolo? si, ma come si sa, si disse in televisione va bene, io ho detto vieni a giocare con noi se vuoi fare qualche partita con noi ti prendiamo volentieri tanti nostri attaccanti ci offendono perché va bene, ce lo prendiamo però al di là di qualche battuta così con Paolo ripeto, c'è un grande rapporto lui è un giocatore di grande valore, di grande prospettiva è un ragazzo che è cresciuto anche tanto gli auguro tutto il bene perché è un ragazzo straordinario grazie ok, ciao